Oh, vedi, chi hai? Oh, aspetta! Chi hai? Che ti senti? Chi hai? Ti senti male? Ma che ha il tuo fratello? Ti devo evitare? Hai male allo stomaco? Ti manca l'aria? Aspetta! Mi tagli questo che gli passo? Non ci faccio con questo! Ma che ha il tuo fratello? E' malato? Ma che ha il tuo fratello? Ma che ha il tuo fratello? Dai, respira! 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 Ecco! Adesso prendiamo il treno, partiamo e finisce tutto! Il treno gli fa male! Si deve riposare! Deve dormire! Ma il magnaio! Ma gliel'avete detto voi? Ma me le voglio dire le cose! Ma che faccio? No! No! Non ci faccio? No! No!